Forza Cangong Italia! Siamo sul tetto del sito di produzione Cangong a sud di Guangzhou. Questo sito di produzione di oltre 200.000 metri quadrati serve a produrre i prodotti specialmente per i mercati esteri, al di fuori della Cina. Pur essendo enorme, smisurato, è uno dei siti di produzione più piccoli di Cangong. Grazie per la visione!